Lezione 1. Piani per il fine settimana. Ciao Anna. Stavo pensando al fine settimana. Che ne dici di pianificare qualcosa di memorabile insieme? Sembra fantastico, John. Sono pronto per farlo. Cosa hai in mente? Che ne dite di esplorare un nuovo sentiero escursionistico? È un ottimo modo per godersi la natura e fare esercizio. Sembra interessante. Non ho mai fatto un'escursione prima, ma sono disposto a provarlo. Non preoccuparti, Anna. Mi assicurerò di scegliere un percorso facile adatto ai principianti. Grazie, John. Apprezzo la tua premura. Possiamo anche preparare un pranzo al sacco e mangiarlo in vetta. Sarà una bella ricompensa dopo l'escursione. È un'idea meravigliosa. Preparerò deliziosi panini e snack per noi. Perfetto. Porterò una coperta e qualcosa da bere. Sarà una pausa rilassante in mezzo alla natura. Mi sto già emozionando, John. Non vedo l'ora che arrivi il weekend. Anch'io, Anna. Sarà un periodo fantastico passato insieme. Lezione 2. Opzioni per la ristorazione. Anna, ci sono diversi fantastici punti ristoro a pochi passi da qui. Davvero? Questo è conveniente. Adoro provare nuovi ristoranti. Quale mi consigliate? Beh, c'è un ristorante italiano chiamato La Trattoria. Servono pasta e pizza deliziose. La cucina italiana sembra allettante. Ho voglia di un po' di pasta. Facciamo una prova. Ottima scelta, Anna. Ho sentito dire che le loro lasagne sono particolarmente eccellenti. Allora è tutto risolto. Andremo alla trattoria, e ci concediamo alcuni deliziosi piatti italiani. Assolutamente. Sono sicuro che gli avremo una deliziosa esperienza culinaria. Non vedo l'ora di assaporarne i sapori. Sarà una serata memorabile. Davvero, Anna. Buon cibo e buona compagnia rendono il soggiorno meraviglioso. Lezione 3. Periodo di collaborazione. Inoltre, dovremmo determinare la tempistica di questa partnership. Hai ragione, John. È importante avere una chiara comprensione di quanto tempo lavoreremo insieme. Suggerisco di stabilire inizialmente una partnership di un anno. In questo modo, possiamo valutare i nostri progressi e decidere un'ulteriore collaborazione. Sembra ragionevole, John. Ci dà abbastanza tempo per raggiungere i nostri obiettivi, e valutare la nostra compatibilità. Esattamente. E se le cose vanno bene, possiamo sempre estendere la partnership in futuro. Concordato. È fondamentale avere flessibilità e adattabilità nelle nostre attività professionali. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Questa partnership ha un grande potenziale per entrambi. Anch'io lo credo, John. Sfruttiamo al massimo questa opportunità e lavoriamo per il nostro successo condiviso. Lezione 4. Istruttori esperti. Dovremmo prendere in considerazione l'assunzione di formatori esperti per il nostro team. Questa è una buona scelta. Quindi possono guidare e guidare i nostri dipendenti. Non potrei essere più d'accordo, John. I formatori esperti possono fornire informazioni preziose e aiutare il nostro team a raggiungere il suo piano potenziale. Possono condividere la loro esperienza e conoscenza del settore, assicurando che i nostri dipendenti ricevano una formazione di alto livello. Assolutamente. Con la loro guida, il nostro team sarà ben attrezzato per gestire qualsiasi sfida si presenti. Inoltre, formatori esperti possono contribuire alla crescita e allo sviluppo professionale dei nostri dipendenti. È vero, John. Possono ispirare e motivare i membri del nostro team a puntare all'eccellenza. È un saggio investimento nella nostra forza lavoro, Anna. Con formatori esperti, possiamo promuovere una cultura dell'apprendimento continuo. Credo che porterà a un miglioramento delle prestazioni e al successo complessivo della nostra organizzazione. Lezione 5. Tempo di attesa Anna, hanno detto che potrebbero volerci fino a 48 ore per recuperarlo. Mi dispiace per l'inconveniente. Va bene, John. Capisco che queste cose richiedano tempo. Dovrò solo essere paziente. In effetti, aspettare può essere difficile, ma speriamo che ne valga la pena. Lo spero anch'io, John. È solo questione di tempo prima che me lo riprenda. Mentre aspetti, posso fare qualcosa per aiutarti o supportarti? La tua offerta significa molto, John. Apprezzo il tuo supporto. Per ora ce la faccio, ma grazie per avermelo chiesto. Benvenuta, Anna. Ricorda che se hai bisogno di qualcosa, non esitare a contattarci. Lo farò, John. Grazie per la comprensione. Ti terrò aggiornato sui progressi. Ti prego, Anna. Sono qui per te e spero che tu lo riprenda prima del previsto. Lezione 6. Cadute Sogno anche di visitare le cascate del Niagara. La domenica sembra un giorno perfetto per una gita lì. Le maestose cascate devono essere uno spettacolo da vedere. È una delle meraviglie della natura. La pura potenza dell'acqua è impressionante. Ho sentito che il rumore delle cascate è fragoroso. Deve essere un'esperienza incredibile assisterla in prima persona. Sono d'accordo. La bellezza delle cascate è accattivante. Posso immaginare la nebbia che sale dalla cascata d'acqua. È uno spettacolo che rimane con te per sempre. Spero che avremo la possibilità di visitarla un giorno. Sicuramente, è una destinazione che vale la pena esplorare. Mi assicurerò di riprendere le cascate con la telecamera. In questo modo, possiamo rivivere i ricordi più tardi. In effetti, le fotografie possono aiutarci ad apprezzare l'esperienza. Lezione 7. Attraverso l'obiettivo di un fotografo. Esattamente. È stimolante vedere la bellezza catturata attraverso l'obiettivo di un fotografo. Le fotografie hanno un modo per raccontare storie. Possono trasportarci in luoghi e orari diversi. L'abilità di un fotografo nel catturare momenti è notevole. Ogni fotografia è un'opera d'arte in sé. È affascinante come una singola immagine possa evocare emozioni. Una fotografia ben composta può lasciare un'impressione duratura. La prospettiva e la composizione giocano un ruolo significativo. Anche l'illuminazione e i colori contribuiscono all'impatto complessivo. Le fotografie possono farci vedere il mondo sotto una nuova luce. Ci mostrano l'ordinario da angolazioni straordinarie. Apprezzo i fotografi che hanno un occhio per i dettagli. La loro dedizione e passione traspaiono dal loro lavoro. Dovremmo prenderci un momento per apprezzare l'arte della fotografia. Lezione 8. Sfidare lo status quo. Non hai paura di sfidare lo status quo? A volte il cambiamento è necessario per il progresso. Ci vuole coraggio per mettere in discussione le norme stabilite. Credo nelle domande e nella ricerca di alternative migliori. Queste proteste in corso in tutto il mondo, pensi che porteranno un cambiamento? Sicuramente sensibilizzano e spingono al dialogo. È importante affrontare le questioni che richiedono attenzione. Il cambiamento spesso inizia con le persone che hanno il coraggio di parlare. Il potere dell'azione collettiva non dovrebbe mai essere sottovalutato. Questi movimenti hanno il potenziale per plasmare un futuro migliore. È stimolante vedere le persone difendere ciò in cui credono. Il progresso è spesso guidato da coloro che sfidano lo status quo. Speriamo che queste proteste portino a trasformazioni positive. Lezione 9. Trova informazioni. È un posto affidabile, ottimo per trovare informazioni. Sì, mi rivolgo spesso ad esso per scopi di ricerca. L'ampia conoscenza disponibile è impressionante. È una risorsa preziosa per imparare e ampliare la nostra comprensione. Apprezzo la comodità di avere informazioni a portata di mano. Anche l'accesso a diverse prospettive è vantaggioso. È una piattaforma che promuove la condivisione e la collaborazione. Lo trovo utile per esplorare nuovi argomenti e rimanere informato. L'affidabilità delle informazioni è tuttavia fondamentale. È vero, la verifica dei fatti è essenziale nell'era digitale. Dobbiamo essere consumatori esigenti di informazioni. D'accordo, il pensiero critico è necessario per navigare nel vasto mare della conoscenza. Lezione 10. L'impatto dell'arte. È incredibile come l'arte possa avere un tale impatto su di noi. L'arte ha il potere di suscitare emozioni e provocare pensieri. Ci permette di vedere il mondo da diverse prospettive. Le espressioni artistiche possono sfidare le nostre nozioni preconcette. È un mezzo attraverso il quale le idee possono essere comunicate. L'arte può essere un catalizzatore per il cambiamento sociale e i cambiamenti culturali. Stimola la creatività e alimenta l'immaginazione. Ci ispira e incoraggia l'espressione personale. L'arte ha la capacità di superare le barriere linguistiche e culturali. Collega le persone e colma i divari tra le diverse comunità. Apprezziamo e sosteniamo gli artisti e i loro contributi. Assolutamente. L'arte arricchisce la nostra vita in modi profondi. Lezione 11. Sullo stesso volo. Siamo sullo stesso volo. È fantastico. Sì, è una piacevole sorpresa. Hai registrato il tuo bagaglio? Sì, l'ho fatto. Hai fatto lo stesso? Assolutamente. È sempre meglio fare il check-in in anticipo. Sono d'accordo consente di risparmiare tempo in aeroporto. Inoltre, assicura che i bagagli siano sullo stesso volo con cui viaggiate. Questo è vero. È rassicurante sapere che tutto è in ordine. Sicuramente. Ho avuto esperienze in cui il mio bagaglio è finito in un'altra città. Questo può essere piuttosto scomodo. Sono contento che non dovremo preoccuparci di questo. Anche io. Ora possiamo concentrarci sul goderci il viaggio. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare la nostra destinazione. Sarà un viaggio fantastico. Non potrei essere più d'accordo. Sfruttiamola al meglio. Sicuramente. Non vedo l'ora. Lezione 12. Riscaldamento e stretching. Lezione 12. Suggeriscono allungamenti dinamici e rotolamento in schiuma per il riscaldamento. Questo è interessante. Ho sentito parlare degli allungamenti dinamici. Ma cos'è il foam rolling? Il foam rolling è una tecnica di automassaggio che utilizza un rullo in schiuma. Ah, capisco. E quali sono i vantaggi del foam rolling? Il foam rolling aiuta a sciogliere la tensione muscolare e a migliorare la flessibilità. Sembra utile. Che ne dici degli allungamenti dinamici? Gli allungamenti dinamici sono movimenti attivi che riscaldano i muscoli. Quindi sono diversi dagli allungamenti statici? Sì, gli allungamenti statici implicano il mantenimento di una posizione, mentre gli allungamenti dinamici implicano il movimento. Capisco. È bello sapere la differenza. Assolutamente. Incorporare entrambi nella routine di riscaldamento può aiutare a prevenire gli infortuni. Questo ha senso. Lo proverò sicuramente. Fantastico. È importante prendersi cura del proprio corpo prima di allenarsi. Non potrei essere più d'accordo. La nostra salute e il nostro benessere dovrebbero essere sempre al primo posto. Lezione 13. Attività e attrezzatura all'aperto. È vero, conosceranno l'attrezzatura migliore per diversi tipi di attività all'aperto. Questo è utile. A volte può essere difficile scegliere l'attrezzatura giusta. Assolutamente. Gli specialisti dell'outdoor hanno le conoscenze e l'esperienza per guidarci. Sono d'accordo possono consigliare l'attrezzatura in base alle nostre esigenze e alle attività che ci piacciono. E possono anche fornire preziosi consigli sui dispositivi di sicurezza. Questo è fondamentale, soprattutto per attività come l'escursionismo o l'arrampicata su roccia. Sicuramente. Attrezzatura adeguata e misure di sicurezza sono essenziali per una gita di successo. È bello sapere che possiamo contare sulla loro esperienza. Assolutamente. Investire in attrezzature di qualità garantisce una migliore esperienza all'aperto. Non potrei essere più d'accordo. Vale la pena avere un'attrezzatura affidabile e durevole. E aumenta anche il divertimento dell'attività. Vero. Quando siamo ben preparati, possiamo immergerci completamente nell'esperienza. Lezione 14. Nuovo hobby. Il tuo nuovo hobby sembra intrigante. Che cos'è? Buongiorno. Ho iniziato a dipingere come hobby. È meraviglioso. Ti è piaciuto? Assolutamente. È un ottimo modo per rilassarmi ed esprimere la mia creatività. Posso immaginarlo. La pittura può essere molto terapeutica. Lo è davvero. Adoro il modo in cui mi permette di esplorare la mia immaginazione. Questo sì che è fantastico. Hai un soggetto preferito da dipingere? Mi piace di più dipingere paesaggi e scene naturali. La natura può essere una grande fonte di ispirazione. I colori e le texture sono bellissimi. Sì, trovo rilassante ricreare la bellezza del mondo naturale su tela. Capisco perché. Deve essere un hobby appagante e gratificante. Sicuramente lo è. Sono contento di aver scoperto questa passione. Sono felice per te. Per seguire gli hobby porta gioia e appagamento alla nostra vita. Lezione 15. Trovare la via. È facile da trovare? Sì, non puoi perdertelo. È bello sentirlo. Non conosco la zona. Non preoccupatevi. È un punto di riferimento importante. Questo è rassicurante. Non voglio perdermi. Capisco. È sempre meglio avere indicazioni chiare. Assolutamente. Preferisco essere preparato e sapere dove andare. Fa risparmiare tempo e riduce lo stress. Esattamente. Voglio sfruttare al massimo il tempo che trascorriamo lì. Mi sento allo stesso modo. Mi sento allo stesso modo. Ci divertiremo molto. Ne sono sicuro. Non vedo l'ora. Grazie per avermi guidato. In qualsiasi momento. Sono felice di aiutarti. Lo apprezzo. Godiamoci la nostra avventura insieme. Lezione 16. Cuocere il pane da zero. Stavo pensando di provare a cuocere il pane da zero. Sembra un'ottima idea. Il pane fatto in casa è delizioso e gratificante da preparare. Ho sentito dire che il processo può essere un po' impegnativo. Hai qualche consiglio? Inizia con una ricetta semplice e seguila attentamente. Misura accuratamente i tuoi ingredienti. Devo usare farina per tutti gli usi o farina per pane? La farina per pane è ideale per fare il pane perché ha un contenuto proteico più elevato, che aiuta a creare una struttura migliore. Capisco. Che mi dici del lievito? Posso usare il lievito istantaneo al posto del lievito seccoattivo? Sì, puoi sostituire il lievito istantaneo con il lievito seccoattivo. Assicurati solo di seguire le istruzioni per il tipo specifico di lievito che stai utilizzando. Di solito quanto tempo impiega il pane a lievitare? Dipende dalla ricetta, ma in media la prima lievitazione può richiedere 1-2 ore e la seconda lievitazione può richiedere da 30 minuti a 1 ora. C'è una temperatura specifica a cui devo mirare quando cuoci il pane? La maggior parte delle ricette di pane richiede un forno preriscaldato a circa 400-450 grado F, 200-230 gradi Celsius. Segui le istruzioni della ricetta per ottenere i migliori risultati. Sono entusiasta di provarlo. Spero che vada bene. Sono sicuro che lo farà. Ricorda solo di essere paziente e di goderti il processo. Cuocere il pane può essere un'esperienza divertente e appagante. Grazie per l'incoraggiamento. Ci proverò e ti farò sapere come va. Non vedo l'ora di sapere della tua avventura culinaria. Buona fortuna! Lezione 17. Pasticcini da leccarsi i baffi Oggi mi sono imbattuto in una panetteria e i dolci che avevano in mostra facevano venire l'acquolina in bocca. Oh, posso immaginarlo! I dolci sono spesso una delizia per gli occhi e le papille gustative. Hai mai provato a fare dolci in casa? Sì, l'ho fatto. Richiede un po' di tempo, ma i risultati ne valgono la pena. Qual è la tua pasticceria preferita da preparare? Mi piace preparare i croissant. Il processo di laminazione dell'impasto e della formazione degli strati è affascinante. Sembra impegnativo. Ci sono pasticcini più semplici che consiglieresti ai principianti? Se hai appena iniziato, puoi provare a preparare la pasta sfoglia. È versatile e può essere utilizzato in varie ricette dolci e salate. Hai qualche consiglio per ottenere una consistenza friabile nei dolci? Mantenere il burro e l'impasto freddi durante tutto il processo è fondamentale. Il burro freddo crea vapore quando si scioglie in forno, formando strati friabili. Come si evita che la pasta frolla diventi troppo unta? Assicurati di utilizzare burro di alta qualità e segui le istruzioni della ricetta per il rapporto burro-impasto. Una corretta piegatura e raffreddamento aiutano anche a prevenire l'untosità. Sono tentato di provare la pasticceria. Sembra un progetto divertente e delizioso. Sicuramente lo è. Sperimentare diversi gusti e ripieni può essere molto divertente. Goditi il processo e assapore gustosi risultati. Grazie per il consiglio. Raccoglierò gli ingredienti e ci proverò. È fantastico sentirlo. Sono sicuro che creerai dei fantastici pasticcini. Buona fortuna. Lezione 18. Routine di esercizi mattutini. Hai una routine di esercizi mattutini? Sì, lo so. Pratico yoga e vado a fare jogging per iniziare la giornata. Lo yoga sembra interessante. Quali sono alcune posizioni yoga di base che un principiante può provare? Puoi iniziare con pose come mountain pose, downward facing dog che child's pose. Aiutano a migliorare la postura e la flessibilità. È necessario avere un tappetino da yoga per praticare yoga? Sebbene un tappetino da yoga offre ammortizzazione e stabilità, non è essenziale, soprattutto per le pose semplici. Anche una superficie antiscivolo come un tappeto può funzionare. Quanto dovrebbe durare in genere una sessione di yoga? Dipende dalle tue preferenze e dal tempo disponibile. Puoi iniziare con una sessione di 15-20 minuti e aumentare gradualmente la durata man mano che ti senti più a tuo agio. Quali sono i vantaggi di fare jogging al mattino? Fare jogging al mattino aiuta a migliorare la forma cardiovascolare, migliora l'umore e aumenta i livelli di energia durante il giorno. C'è una durata o una distanza specifica a cui devo mirare quando faccio jogging? Inizia con un ritmo confortevole e aumenta gradualmente la durata o la distanza nel tempo. Ascolta il tuo corpo ed evita sforzi eccessivi. Ora sono motivato a iniziare una routine di esercizi mattutini. Sembra un modo sano per iniziare la giornata. È fantastico sentirlo. La coerenza è fondamentale, quindi cerca di farne un'abitudine. Ricordati di riscaldarti e rinfrescarti adeguatamente per evitare lesioni. Grazie per il consiglio. Incorporerò yoga e jogging nella mia routine mattutina. Siete i benvenuti. Sono sicuro che godrai dei benefici dell'esercizio fisico regolare. Ti auguro un allenamento fantastico. Lezione 19. Comparazione dei prezzi. Sì, fanno risparmiare denaro. Confrontate i prezzi prima di acquistare? Assolutamente. Il confronto dei prezzi mi aiuta a prendere decisioni informate e a ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Quali sono alcuni modi per confrontare i prezzi in modo efficace? Un modo è controllare i prezzi presso diversi negozi o rivenditori online. Per comodità, puoi anche utilizzare siti web o app per il confronto dei prezzi. Ci sono fattori specifici da considerare quando si confrontano i prezzi? Oltre al prezzo stesso, considera fattori come i costi di spedizione, le politiche di restituzione e le recensioni dei prodotti. Questi possono influire sulla soddisfazione generale dell'acquisto. Come si fa a garantire la qualità di un prodotto quando si confrontano i prezzi? Leggere le recensioni e le valutazioni dei prodotti può darti un'idea della qualità. Inoltre, cerca marchi affidabili o controlla se il prodotto soddisfa determinati standard o certificazioni. Vale la pena aspettare saldi o sconti prima di effettuare un acquisto? Dipende dall'urgenza dell'acquisto, e dai potenziali risparmi. Se l'articolo è essenziale e lo sconto è significativo, potrebbe valere la pena aspettare. Ci sono articoli in cui il confronto dei prezzi è particolarmente importante? Sì, per articoli di grandi dimensioni come elettronica o elettrodomestici, il confronto dei prezzi può aiutarti a risparmiare una notevole quantità di denaro. Inizierò a confrontare i prezzi prima di effettuare acquisti. Sembra un modo intelligente per assicurarmi di ottenere l'offerta migliore. È una decisione saggia. Con un po' di ricerca e confronto, puoi fare in modo che i tuoi soldi vadano oltre. Buon acquisto! Lezione 20. L'amore per la cucina Ehi, ti piace cucinare? Sì, lo adoro. Cucinare mi permette di essere creativa e sperimentare con i sapori. Questo è fantastico! Cosa ti piace di più cucinare? Mi piace cucinare una varietà di cucine, ma ho una predilezione particolare per i piatti italiani e asiatici. Ci sono ingredienti o aromi specifici con cui ti piace lavorare? Adoro usare erbe fresche come basilico, coriandolo e rosmarino per aggiungere sapori vivaci ai miei piatti. Anche le spezie come il cumino e la curcuma sono le mie preferite. Hai qualche tecnica di cucina preferita? Mi piace grigliare e soffriggere perché esaltano i sapori, e le consistenze naturali degli ingredienti. Ci sono consigli di cucina che puoi condividere con un principiante come me? Inizia con ricette semplici e mettiti gradualmente alla prova con ricette più complesse. Segui attentamente la ricetta e non aver paura di sperimentare, e apportare modifiche in base alle tue preferenze di gusto. Hai qualche fonte di riferimento per trovare nuove ricette? Spesso visito siti web di cucina, guardo programmi di cucina e seguo i food blogger per trovare ispirazione. Anche i libri di cucina sono un'ottima risorsa. Sono entusiasta di esplorare il mondo della cucina. Sembra un hobby gratificante e delizioso. Lo è davvero! Goditi il processo e assapora i frutti del tuo lavoro. Cucinare può essere un modo meraviglioso per esprimere la tua creatività, e condividere la gioia attraverso il cibo. Grazie per aver condiviso la tua passione per la cucina. Non vedo l'ora di iniziare. Siete i benvenuti! Sono sicuro che scoprirai un mondo completamente nuovo di sapori e troverai gioia in cucina. Buona cucina! Lezione 21. Gestire la concorrenza di mercato La concorrenza di mercato è il rischio principale che dobbiamo affrontare. Sono d'accordo è fondamentale avere un piano in atto. Dovremo analizzare i nostri concorrenti e identificare i loro punti di forza e di debolezza. In questo modo, possiamo determinare il nostro vantaggio competitivo. Sì, e dobbiamo monitorare costantemente le tendenze del mercato e le preferenze dei consumatori. Assolutamente! Rimanere aggiornati ci aiuterà ad adattarci e a stare al passo con la concorrenza. Dovremmo inoltre concentrarci sul miglioramento della qualità dei nostri prodotti e del servizio clienti. Questo è essenziale per la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Inoltre, possiamo esplorare strategie di marketing innovative per differenziarci. Sì, un marketing creativo e mirato ci aiuterà a distinguerci sul mercato. Infine, dovremmo rivedere regolarmente la nostra strategia di prezzo per garantire la competitività. Concordato! Dobbiamo offrire valore mantenendo la redditività. Lezione 22. Revisione e regolazione dei numeri. Mi sembra giusto. Possiamo rivedere i numeri e apportare modifiche se necessario. Sicuramente! Una valutazione regolare ci manterrà sulla buona strada. Dovremmo confrontare i nostri risultati effettivi con quelli previsti. In questo modo, possiamo identificare eventuali lacune e adottare misure correttive. È importante analizzare i motivi alla base di eventuali deviazioni. Sì, comprendere le cause ci aiuterà a prendere decisioni informate. Possiamo quindi apportare le modifiche necessarie alla nostra strategia e alle nostre operazioni. In questo modo, possiamo garantire che i nostri obiettivi siano raggiungibili e realistici. Inoltre, dovremmo comunicare e allinearci regolarmente con le parti interessate. Tenerli informati favorirà la trasparenza e la fiducia. Insieme, possiamo lavorare per raggiungere i nostri obiettivi in modo efficace. Lezione 23. Garantire la disponibilità dei posti Si consiglia di prenotare un posto per garantire la disponibilità. Sono d'accordo e meglio assicurarsi un posto in anticipo. Prenotando, possiamo evitare delusioni dell'ultimo minuto. Sì, soprattutto nelle ore di punta o in occasione di eventi popolari. Possiamo verificare la disponibilità ed effettuare una prenotazione online. In questo modo, possiamo assicurarci che il nostro posto sia riservato. Inoltre, alcune sedi offrono l'accesso prioritario per i posti riservati. Questo è un grande vantaggio, soprattutto per gli eventi affollati. È sempre meglio pianificare in anticipo e assicurarsi un posto. Lezione 24. Esplorazione di diverse attività Certo, ma voglio anche provare lo yoga per una maggiore flessibilità. Questa è un'ottima idea. Lo yoga può migliorare il benessere fisico e mentale. Ho sentito che è efficace per alleviare lo stress e migliorare la postura. Sì, può aiutare con il rilassamento e l'allineamento del corpo. Penso che completerebbe la nostra routine di allenamento esistente. Sicuramente. Può fornire un approccio equilibrato al fitness. Troviamo uno studio di yoga rispettabile e proviamolo. Sembra un piano. Possiamo esplorare diverse classi e istruttori. Sono entusiasta di vedere come può migliorare il nostro livello di forma fisica generale. Lezione 25. Esperienze di viaggio memorabili. È stato incredibile. Le spiagge erano meravigliose e le persone erano così amichevoli. Sono contenta che ti sia divertito. Dimmi di più sul tuo viaggio. Le spiagge avevano acque cristalline e soffice sabbia bianca. Sembra una destinazione perfetta per rilassarsi e divertirsi. La gente del posto era incredibilmente accogliente e desiderosa di condividere la propria cultura. È sempre bello incontrare persone amichevoli mentre si viaggia. Ho anche provato la deliziosa cucina locale e ho esplorato monumenti storici. Deve essere stata un'esperienza memorabile e arricchente. Lo era davvero. Mi piacerebbe visitarlo di nuovo ed esplorare di più. Esperienze di viaggio come la tua mi ispirano a pianificare la mia prossima avventura. Lezione 26. Mercato degli agricoltori. Sei mai stato al Farmer's Market? Sì, adoro andarci. È un ottimo posto per trovare prodotti freschi. Meraviglioso. Mi piace sostenere gli agricoltori locali. È importante sapere da dove proviene il nostro cibo. Assolutamente. Inoltre, si dice che frutta e verdura contengano più nutrienti. Questo è vero. Di solito vengono raccolti al loro apice. Sto anche pensando di prendere delle marmellate e del pane fatti in casa. Sembra delizioso. La varietà di prodotti fatti in casa è incredibile. È un bel cambiamento rispetto alla spesa al supermercato. Sicuramente. Inoltre, puoi interagire con i fornitori e porre domande. Crea anche un senso di comunità. Sì, è un ottimo modo per entrare in contatto con i produttori locali. Sono d'accordo. È una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Sostenere le imprese locali è importante anche per l'economia. Assolutamente. Attendo con ansia la nostra prossima visita al Farmer's Market. Lezione 27. Nutrienti e acquisti. Ho sentito dire che i prodotti del Farmer's Market contengono più nutrienti. È vero? Sì, si ritiene che frutta e verdura siano più nutrienti quando sono fresche. Questo è interessante. Immagino sia perché vengono raccolte quando sono completamente mature. Esattamente. Più a lungo il prodotto rimane sugli scaffali, più nutrienti perde. Questo ha senso. Penso che inizierò a fare acquisti al Farmer's Market più spesso. Questa è un'ottima idea. Non solo otterrai prodotti freschi, ma sosterrai anche gli agricoltori locali. Sto anche pensando di acquistare dei prodotti biologici. I prodotti biologici sono una buona scelta se si desidera evitare i pesticidi. Sono contento che siano disponibili alternative più salutari. Sì, è importante fare scelte informate sul cibo che mangiamo. Ci proverò sicuramente. Grazie per le informazioni. Siete i benvenuti. Goditi i tuoi acquisti al Farmer's Market. Lezione 28. Sicurezza domestica. Ho installato degli allarmi per finestre che mi avvisano se vengono aperte senza autorizzazione. Questa è una misura di sicurezza intelligente. Aiuta a proteggere la tua casa. Sì, mi sento più sicuro sapendo che verrò avvisato se qualcuno tenta di entrare. È importante adottare misure per proteggere la casa e gli effetti personali. Assolutamente. La sicurezza domestica dovrebbe sempre essere una priorità assoluta. Esistono diversi sistemi di sicurezza disponibili sul mercato. Preferisco gli allarmi per finestre perché sono semplici ed efficaci. Questa è una buona scelta. È importante trovare un sistema di sicurezza adatto alle proprie esigenze. Sì, mi dà tranquillità quando sono lontano da casa. Questo è l'obiettivo principale dei sistemi di sicurezza domestica, offrire tranquillità. Sono contento di aver deciso di installarli. È sempre meglio essere proattivi quando si tratta di sicurezza domestica. Lezione 29. Opzioni di viaggio Hai mai pensato di viaggiare con i mezzi pubblici? Sì, penso che sia un modo comodo ed ecologico per spostarsi. Sono d'accordo può evitarti il fastidio di guidare o parcheggiare. Inoltre, non devi preoccuparti del traffico o di trovare un parcheggio. Questo è vero. Il trasporto pubblico può far risparmiare tempo e stress. È anche più sostenibile in quanto riduce il numero di auto sulla strada. Sto pensando di provarlo per i miei spostamenti quotidiani. Questa è una buona idea. Può anche essere un'opzione conveniente. Dovrò controllare gli orari e i percorsi nella mia zona. Di solito ci sono app o siti web che forniscono tali informazioni. Sicuramente lo esaminerò. Grazie per aver suggerito il trasporto pubblico. Siete i benvenuti. Spero che lo troviate comodo e piacevole. Lezione 30. Rispetto delle scadenze. Comprendo la tua preoccupazione. Dovremo lavorare in modo efficiente per completare il progetto in tempo. Lezione 30. Rispetto delle scadenze. Potrebbe essere utile suddividere il progetto in attività più piccole e gestibili. Questa è una buona idea. Renderà il carico di lavoro più gestibile. Dovremmo inoltre comunicare regolarmente e risolvere tempestivamente eventuali problemi. Una buona comunicazione è fondamentale per garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Possiamo anche prendere in considerazione la possibilità di delegare compiti per rendere il processo più efficiente. Ciò potrebbe aiutare a distribuire il carico di lavoro e accelerare i progressi. Dovremmo rimanere organizzati e tenere traccia dei nostri progressi. Concordato. Aggiornamenti regolari sui progressi ci aiuteranno a rimanere sulla buona strada. Facciamo del nostro meglio, e lavoriamo insieme per rispettare la scadenza. Assolutamente. Con una pianificazione adeguata e un efficace lavoro di squadra, credo che possiamo farcela. Lezione 31. Avventura escursionistica. Che ne dici di fare un'escursione? C'è un bellissimo sentiero nelle vicinanze. Sembra fantastico. Adoro esplorare la natura. L'escursionismo è un modo meraviglioso per rimanere attivi e godersi la vita all'aria aperta. Sono d'accordo e una grande opportunità per entrare in contatto con la natura e fare esercizio. Inoltre, il sentiero che percorreremo offre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Wow, sembra fantastico. Non vedo l'ora di vedere il paesaggio. È importante mettere in valigia alcuni oggetti essenziali come acqua, snack e scarpe comode. Assolutamente. Dovremmo anche portare una mappa o usare un'app per escursioni per rimanere in pista. La sicurezza è fondamentale, quindi assicuriamoci di informare qualcuno sui nostri piani escursionistici. Buona idea. È sempre importante far sapere agli altri dove saremo. E dovremmo controllare le previsioni del tempo prima di partire, per ogni evenienza. Sicuramente. Non vogliamo farci sorprendere dal maltempo durante la nostra escursione. Concordato. Pianifichiamo l'escursione per questo fine settimana. Sarà un'avventura fantastica. Lezione 32. Discussione sulla strategia di marketing. Ciao, hai pensato alla nostra nuova strategia di marketing? Sì, ho qualche idea. Parliamone. Eccellente e dobbiamo trovare modi innovativi per raggiungere il nostro pubblico di riferimento. Penso che le piattaforme di social media sarebbero un canale efficace per la promozione. Questo è un buon punto. Possiamo sfruttare la potenza dei social media per interagire con i clienti. Dovremmo anche prendere in considerazione la possibilità di collaborare con influencer del nostro settore. Sì, la collaborazione con gli influencer può aiutarci a espandere la portata del nostro marchio. Dovremmo concentrarci sulla creazione di contenuti accattivanti che siano in sintonia con il nostro pubblico. Assolutamente. Contenuti di valore e pertinenti attireranno e fidelizzeranno i clienti. È importante analizzare le strategie dei nostri concorrenti per rimanere all'avanguardia sul mercato. Concordato. Capire cosa stanno facendo gli altri può darci un vantaggio competitivo. Dovremmo anche stanziare un budget per la pubblicità online per aumentare la visibilità del marchio. Buona idea! Le campagne pubblicitarie strategiche possono generare più lead e vendite. Infine, dobbiamo monitorare e misurare i risultati delle nostre attività di marketing. Anzi! Il monitoraggio delle metriche ci aiuterà a prendere decisioni basate sui dati. Lezione 33. Forniture per il giardinaggio Ho trovato un negozio che vende articoli per il giardinaggio. È incredibile! Questa è un'ottima notizia. Mi evita la fatica di cercarli. Hanno un'ampia varietà di strumenti, semi e piante per tutte le esigenze di giardinaggio. Questo è conveniente. Posso trovare tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Offrono anche fertilizzanti organici e pesticidi per un giardinaggio rispettoso dell'ambiente. Questo sì che è fantastico! Preferisco usare prodotti biologici per il mio giardino. Hanno personale esperto in grado di fornire consigli sulle tecniche di giardinaggio. Questo è utile! Potrei chiedere la loro guida per alcuni consigli sul giardinaggio. Offrono servizi di consegna, in modo da poter ricevere le forniture direttamente a casa tua. È comodo, soprattutto per oggetti voluminosi come terra e vasi. Hanno prezzi competitivi, quindi puoi ottenere prodotti di qualità a prezzi convenienti. È fantastico sentirlo! Sono sempre alla ricerca di buoni affari. Nel complesso, sembra un negozio affidabile per tutte le tue esigenze di giardinaggio. Sono entusiasta di dargli un'occhiata. Grazie per aver condiviso le informazioni. Lezione 34. Considerare fattori aggiuntivi. Ex, ex, ex. Ok, lo farò. Cos'altro devo prendere in considerazione? Dovresti pensare al budget e stanziare i fondi di conseguenza. Questo è un buon punto. Mi assicurerò di pianificare entro il budget assegnato. Inoltre, considera la tempistica e fissa scadenze realistiche per ogni attività. Giusto, è importante gestire il tempo in modo efficace per garantire un completamento tempestivo. Non dimenticate di valutare i potenziali rischi e sviluppare piani di emergenza. Assolutamente, essere preparati a sfide inaspettate è fondamentale. È inoltre essenziale comunicare e coordinarsi regolarmente con i membri del team. Una buona comunicazione è fondamentale per mantenere tutti allineati e informati. E non trascurate l'importanza del controllo della qualità e dell'attenzione ai dettagli. Hai ragione. Dovremmo puntare all'eccellenza in ogni aspetto del nostro progetto. Infine, ricorda di valutare i risultati e di imparare sia dai successi che dai fallimenti. Il miglioramento continuo è fondamentale per la crescita e il successo a lungo termine. Lezione 35. Trovare la tranquillità. Assolutamente, è come un pulsante di ripristino per l'anima, che porta un senso di tranquillità. Non potrei essere più d'accordo. Stare in un ambiente tranquillo può essere rigenerante. La natura ha un modo per calmare la nostra mente e alleviare lo stress. È vero. Il solo fatto di essere circondati dal verde può avere un effetto calmante. Il cinguettio degli uccelli e il fruscio delle foglie possono essere incredibilmente terapeutici. E la fragranza dei fiori e dell'aria fresca aumenta la tranquillità generale. È una grande opportunità per disconnettersi dal trambusto della vita quotidiana. Assolutamente. Ci permette di rallentare e apprezzare la bellezza che ci circonda. Che si tratti di un parco tranquillo o di un giardino sereno, trovare la tranquillità è essenziale. Dona un senso di equilibrio e pece interiore alle nostre vite frenetiche. Prendersi dei momenti per godersi la tranquillità della natura può avere un impatto positivo sul nostro benessere. È un dolce promemoria per fermarsi, respirare ed essere presenti nel momento. Quindi prendiamoci il tempo per cercare la tranquillità e abbracciare la serenità della natura. Non potrei essere più d'accordo. Diamo priorità al nostro benessere e troviamo momenti di tranquillità ogni volta che possiamo. Lezione 36. Arrotolare i vestiti fa risparmiare spazio. Hai mai provato ad arrotolare i vestiti invece di piegarli? No, non l'ho fatto. Fa davvero differenza? Sì, lo fa. Arrotolare i vestiti consente di risparmiare spazio in valigia e riduce al minimo le rughe. Sembra interessante. Come funziona esattamente? Beh, invece di piegare i vestiti, li arrotoli bene. Questo metodo aiuta a comprimere i vestiti e a ridurre la quantità di spazio che occupano. Capisco. E le rughe? Non appariranno ancora? Arrotolare i vestiti aiuta effettivamente a prevenire le rughe. Poiché sono ben arrotolati, ci sono meno pieghe ed è meno probabile che il tessuto si raggrinzisca. Questo è fantastico. Sarebbe bello avere meno rughe da affrontare quando si viaggia. Esattamente. Inoltre, i vestiti arrotolati sono più facili da organizzare e da trovare in valigia. Non ci ho mai pensato. Sembra un'ottima tecnica di imballaggio. Sicuramente rende l'imballaggio più efficiente. Dovresti provarlo nel tuo prossimo viaggio. Lo farò. Grazie per aver condiviso questo utile consiglio, John. Benvenuta, Anna. Sono contenta che tu l'abbia trovato utile. Buon viaggio. Lezione 37. Pubblicità online. Hai preso in considerazione l'utilizzo della pubblicità online per la tua attività? No, non l'ho fatto. Vale la pena investire? Assolutamente. La pubblicità online è relativamente economica rispetto ai canali tradizionali. Questo è interessante. Puoi spiegare perché è più conveniente? Bene, con la pubblicità online, hai un maggiore controllo sul tuo budget. Puoi impostare limiti giornalieri o mensili per assicurarti di rimanere entro i tuoi limiti. Capisco. Quindi, puoi stanziare un budget inferiore e raggiungere comunque un vasto pubblico? Esattamente. Le piattaforme online ti consentono di rivolgerti a dati demografici e interessi specifici, in modo da poter raggiungere le persone giuste senza spendere una fortuna. Questo è un vantaggio significativo. Sembra un modo conveniente per promuovere la tua attività? Sicuramente lo è. Inoltre, puoi monitorare il rendimento dei tuoi annunci in tempo reale e apportare le modifiche necessarie. Questo è conveniente. Puoi ottimizzare le tue campagne in base ai dati che ricevi. Precisamente. È un approccio più efficiente e misurabile alla pubblicità. Sicuramente esaminerò la pubblicità online per la mia attività. Grazie per aver condiviso questa preziosa intuizione, John. Benvenuta, Anna. Sono felice di aver potuto aiutare. Buona fortuna con i tuoi sforzi pubblicitari. Lezione 38. Da dove iniziare con l'apprendimento dell'inglese? Quale pensi sia il modo migliore per iniziare a imparare l'inglese? Beh, penso che un buon punto di partenza sia imparare le basi della grammatica e del vocabolario. Questo ha senso. La padronanza dei fondamenti è essenziale per costruire una solida base. Assolutamente. Una volta acquisite le nozioni di base, puoi iniziare a mettere in pratica le tue capacità di parlare e ascoltare. Questo è vero. Parlare e ascoltare sono fondamentali per sviluppare la fluidità in qualsiasi lingua. Inoltre, è utile intrattenere conversazioni con persone di madrelingua inglese o con partner di scambio linguistico. Questa è un'ottima idea. L'immersione e la pratica sono fondamentali per migliorare le tue abilità linguistiche. Anzi. Inoltre, leggere libri in inglese, guardare film e ascoltare musica inglese può anche migliorare il tuo viaggio di apprendimento della lingua. Sono d'accordo. La diversificazione delle fonti di apprendimento mantiene le cose interessanti e ti aiuta a esporti a contesti diversi. Esattamente. Più ti immergi nella lingua, più velocemente progredirai. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Imparare l'inglese è un viaggio, ma con uno sforzo costante, chiunque può avere successo. Assolutamente. Sono entusiasta di continuare il mio viaggio di apprendimento delle lingue. Grazie per il consiglio, John. Benvenuta, Anna. Ti auguro tutto il meglio per i tuoi sforzi di apprendimento dell'inglese. Lezione 39. Seguire tutorial online per imparare l'inglese. Segui qualche tutorial online per migliorare le tue abilità in inglese? Sì, lo so. I tutorial online sono una risorsa preziosa per l'apprendimento delle lingue. È fantastico sentirlo. Come li trovi utili? I tutorial online forniscono lezioni strutturate e spiegazioni chiare che facilitano la comprensione e l'apprendimento di nuovi concetti. Questo è vero. Spesso suddividono argomenti complessi in blocchi gestibili. Esattamente. Inoltre, molti tutorial offrono esercizi e quiz interattivi per mettere in pratica ciò che hai imparato. È un modo fantastico per rafforzare la tua comprensione e mettere alla prova le tue conoscenze. Lo è. È la cosa migliore che puoi imparare al tuo ritmo e rivedere le lezioni ogni volta che ne hai bisogno. Questa flessibilità è sicuramente un vantaggio. Puoi adattare il tuo apprendimento al tuo programma. Assolutamente. I tutorial online coprono anche una vasta gamma di argomenti, dalla grammatica e dal vocabolario alla pronuncia e alla pratica della conversazione. Meraviglioso. Ti consente di concentrarti su specifiche aree di miglioramento. Sì, e sono disponibili tutorial per tutti i livelli di competenza, quindi i principianti e gli studenti avanzati possono trarne vantaggio. Questo sì che è fantastico. È fantastico avere una tale varietà di risorse disponibili online. Sicuramente. Incoraggio chiunque stia imparando l'inglese a esplorare i tutorial online. Possono essere uno strumento prezioso nel tuo percorso di apprendimento delle lingue. Sono completamente d'accordo. I tutorial online forniscono una guida accessibile e completa per gli studenti. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. I tutorial online sono stati una svolta per me. Li consiglio vivamente. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. Sono sicuro che molti studenti lo troveranno utile. Lezione 40. Portare snack e bevande per una gita. Portiamo degli snack o delle bevande per la nostra gita? Sì, è una buona idea. Porterò con me degli snack. Fantastico. È sempre bello avere qualcosa da sgranocchiare durante le nostre avventure. Assolutamente. Inoltre, è più conveniente ed economico rispetto all'acquisto di snack in viaggio. Questo è vero. Portare i nostri snack ci permette di scegliere i nostri preferiti e ci fa risparmiare un po' di soldi. E ci assicura di avere qualcosa che ci piace, soprattutto se abbiamo restrizioni o preferenze dietetiche. Precisamente. È importante soddisfare i nostri gusti e le nostre esigenze individuali. Preparerò anche delle bevande per mantenerci idratati per tutto il giorno. Eccellente rimanere idratati è essenziale, soprattutto durante le attività all'aperto. È anche un bel gesto condividere snack e bevande con gli altri membri del nostro gruppo. Questo è vero. Aggiunge un elemento comune e amichevole alla nostra gita. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Mi assicurerò di mettere in valigie deliziosi snack e bevande rinfrescanti per la nostra avventura. Grazie Anna. Non vedo l'ora. Facciamola diventare una gita memorabile. Grazie a tutti.